ragazze buongiorno stamattina parrucchi in reta una bella laminazione in questo momento detossinare i capelli per svuotarli dalle impurità e poi dopo ci andiamo a applicare allora il video era terminato che cosa stavi dicendo? dopo la detossinazione andremo a far collegare all'interno dei capelli il botox e così si rimpolpano per poi dopo fare la maschera che chiude le scuame e poi dopo ci vediamo per il finale assaggiamo bene è profezionale non ho mai domandolo ma ora mi fai affianco a te c'è già assiuta è bravo mi ha portato? si però ho anche girato ma ora è proprio aiuto è quello che è oltre a camo sul botox perché mi faccio sopportare mi fa manganino ma non lo fa solo con me lo fa con tutte le sue clienti che stai facendo ma? stiamo facendo penetrare all'interno dei capelli il botox guardo se lo chiamano da solo bravi eh? c'è la vita sai come stia tu? bravi eh? scusa ma tutte queste cose che stai facendo che cosa devono i capelli? che come si fa? che sta rotto? che è un buon Grazie a tutti.